Le occasioni per far festa non mancano mai. Essere padre è tutto, tutto. Ho detto se pensi di aver bisogno di me, io ci sono. Sono orgoglioso di sapere che loro sono felice. Io sono Giulia Delellis e insieme a me Gemma Galgani. Siamo noi le inviate speciali che vi accompagneranno in questo viaggio pazzesco, realizzato, quando gli abbracci potevano essere senza limiti, come le emozioni.